Ciao, oggi vi parlo di un gioco cooperativo di sole carte ambientato in una distobica val di sole. Vi parlo di questo senso ideato dal gruppo O Suono Mio, per 4-7 giocatori, una durata partita sulla mezz'oretta e in campagna crowdfunding proprio in questi giorni. Guardate in descrizione per seguire il link. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Recensioni Minute Prima di iniziare a giocare, a ogni giocatore è assegnato casualmente un ruolo. Ci sarà sempre un raccoglitore, mentre tutti gli altri saranno gli aiutanti. Analogamente, si darà casualmente una delle carte senso, che darà ai giocatori alcuni vincoli particolari. Il giocatore con parola, ad esempio, non potrà in alcun modo comunicare con gli altri giocatori. Chi ha il senso vista non potrà guardare le sue carte, dovrà sempre tenerle a faccia in giù sul tavolo. Infine, chi ha il senso memoria semplicemente non potrà dare indicazioni sulla carta da passare, dovrà essere sempre passata in maniera casuale. Ora ci arriviamo. Durante il proprio turno si gioca in questo modo. Si pesca una carta dalla cima del mazzo. Dopodiché, se la si ha, bisogna giocare una coppia dalla propria mano. In questo caso ho una coppia scambia e una coppia condividi. Decido di giocare il condividi applicando negli effetti. Passa una carta a un giocatore con vista. Scarto quindi le due carte e decido di passare, ad esempio, questa mia carta scambia al giocatore con vista in quella posizione. Dopodiché, scelgo una carta dalla mia mano, la passo al giocatore alla mia sinistra e concludo così il mio turno. Tocca al giocatore alla mia sinistra. All'interno del mazzo torneremo sei tipologie di carte che aiuteranno i giocatori nel proprio scopo finale. Ma c'è anche una settima tipologia invece che, se giocata, elimina direttamente un giocatore. Questa coppia ovviamente può essere giocata se saremo obbligati perché è unica coppia in mano, oppure se siamo un giocatore con vista e stiamo tentando la sorte e cercando di giocare una coppia. Si può essere eliminati comunque anche durante la partita se si bara secondo le regole della proprio senso, ad esempio se il giocatore con parola emette un suono. Si continua a giocare così passandosi carte fra i vari giocatori, fino a quando il giocatore raccoglitore non riesce a raccogliere esattamente la sgorbia, il bazon e il lares. A quel punto tutto il gruppo è dichiarato vincitore. Se invece termina il mazzo senza che ciò avvenga, tutto il gruppo è dichiarato sconfitto. Come avete visto il regolamento è davvero semplice e intuitivo, anche il turno è molto stretto. Ma anche la scritta sulle carte delle varie azioni è molto facile da comprendere. Eventualmente se fate solo un primo giro di tutte le possibili azioni che si hanno nella partita prima di iniziare a giocare, di sicuro non ci saranno domande durante la partita. Chiaramente il twist del gioco risiede nel fatto che ogni giocatore ha delle limitazioni sulla comunicazione con gli altri giocatori, o perlomeno sul fatto di poter giocare nella maniera ottimale. Il tutto è detto da un'ambientazione che ci racconta come in questa val di sole un po' del futuro c'è uno strano virus che prima le persone di alcuni sensi e che la soluzione è stata proprio trovata nella resina estratta dai larici. Quindi l'estrazione di questa resina permetterà a tutti di riuscire a guarire ed essere poi immunizzati. Diciamo quindi che se non aveste questi vincoli far arrivare al giocatore raccoglitore queste tre carte sarebbe abbastanza semplice. I tre vincoli comunque non sono della stessa portata. Diciamo che al giocatore alle prime armi potreste anche decidere anziché assegnarli casualmente di assegnargli il vincolo parola. È quello un po' più soft diciamo fra i tre perché gli chiede solo di non poter parlare con gli altri però diciamo che può fare ragionamenti, insomma può comunque gestirsi la sua partita. Al secondo livello metterei quello della memoria perché vi chiede di passare a caso una delle carte che avete in mano. Questo comporta che se avete una delle tre carte chiave per vincere la partita potreste avere un po' la sensazione di non riuscire a far finire velocemente la partita. E quindi dovete un po' ingegnarvi nel senso per rimuovere carte dalla vostra mano in una maniera più efficace. Cercare di ottenere il più possibile coppie o comunque scambiare le vostre carte ma notte le che arrivino in mano a qualcun altro. Il più difficile è quello del senso della vista perché l'unica chance che ha per tentare le coppie è la sorte e se questo gli va male sarà eliminato dalla partita. Diciamo che per le vostre prime partite vi consiglierei di rimescolare i ruoli nel caso che il raccoglitore abbia il senso vista perché per poter vincere dovrà rivelare tutte e tre le carte in maniera sicura. Nel senso se ne sbaglia anche una sola il gruppo ha perso quindi per le prime partite evitate che il raccoglitore abbia il senso vista dopodiché aggiungete questo pizzico di sfida. Valutate però che l'essere eliminati dalla partita sì vi può non piacere come giocatore singolo ma per il gruppo potrebbe comunque essere una scelta. In alcuni casi potreste decidere di essere eliminati. Questo perché? Perché quando siete eliminati le vostre carte finiscono in fondo al mazzo quindi date un po' più di longevità alla fine della partita. Quindi aiutate gli altri ad avere qualche turnino in più ma in secondo luogo chiede a un giocatore di rivelare interamente la propria mano. Quindi magari se scegliete un giocatore vista oppure non avete qualche dubbio sui giocatori di memoria insomma vi dà una buona visione su cosa si potrebbe decidere come gruppo da fare successivamente. Quindi può davvero essere soprattutto nelle fasi finali della partita un sacrificio molto interessante. Direi quindi che ci troviamo di fronte a un gioco sicuramente semplice e adatto a tutti perché è inserito all'interno di un progetto più ampio. Vi invito a guardare proprio il progetto o suono mio per avere più informazioni a riguardo. Ricordatevi che c'è una campagna crowdfunding in corso e trovate il link qua in descrizione e a me non resta che invitarvi a fare una prova di questo senso. Vi saluto con un ciao e alla prossima!